Ti sei mai chiesto quali siano gli indispensabili equipaggiamenti di sopravvivenza per affrontare le sfide dell'alta montagna? Filippo Turetta, lo studente veneto di 22 anni, sparito nel nulla mentre cercava informazioni online su kit di sopravvivenza in alta quota e abbigliamento per escursioni in montagna. Metti un like al video ed iscriviti al canale per tutte le notizie aggiornate. In cerca di informazioni online riguardo agli equipaggiamenti per la sopravvivenza in alta quota e all'abbigliamento, adatto alle escursioni in montagna, Filippo Turetta, uno studente veneto di 22 anni, è scomparso lo scorso sabato, 11 novembre. Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata, è stata trovata senza vita ieri in un canalone presso il lago di Barchis. Tuttavia, del giovane Filippo non si hanno notizie da una settimana. Gli investigatori hanno perquisito la casa di Turetta, sequestrando dispositivi elettronici PC, tablet e alcuni indumenti del ragazzo. Durante la perquisizione, sono emerse anche informazioni su itinerari estremi nel versante tirolese meridionale dell'Austria, dove sono in corso ampie ricerche. Nel frattempo, Filippo Turetta è al centro di una ricerca su scala internazionale, con i territori indagati che comprendono il Tirolo orientale, l'Alta Valpusteria in Alto Adige e la Carinzia. Le telecamere hanno ripreso l'auto del giovane mentre attraversava il confine italo-austriaco di Tarvisio. La sua grande punto nera, con Targafa 015Y, ha percorso un tragitto da Tarvisio a Villac, poi a Lienz nel Tirolo orientale, nelle vicinanze della Drava in Alto Adige. Tra Villac e Lienz ci sono tre possibili percorsi, uno dei quali è una strada a scorrimento veloce e gli altri due attraversano un ambiente boschivo. Il ragazzo di 22 anni, appassionato di montagna, sembra essere familiare con le zone in cui è stato avvistato. Giulia trovata senza vita. Il dolore della sorella è stato il vostro bravo ragazzo. Nel frattempo, il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, ha ordinato l'autopsia e l'esame del DNA sul corpo di Giulia. I genitori di Giulia hanno lanciato un appello a Filippo, chiedendogli di interrompere la fuga, di costituirsi e di spiegare cosa sia successo. I genitori Turetta, colpiti dal dramma che li ha colti, rivolgono un appello al figlio, Filippo, avvicinati alle forze dell'ordine e costituisciti, dichiara Emanuele Compagno, avvocato della famiglia. La situazione finanziaria di Filippo in questi giorni rimane oscura e anche il procuratore capo di Venezia, Cherchi, si rivolge direttamente al 22enne, invitandolo a non proseguire la fuga verso l'Austria, ma a costituirsi.